Scrooge si trova improvvisamente nel suo letto, guarda il soffitto alto e scrostato, le ragnatele, le pareti di l'adorne, neanche un quadro o una decorazione, le lenzuola sono sgualcite. Era cambiato e la gente pensava che fosse diventato pazzo e rideva, ma Scrooge non importava e rideva anche lui perché era l'uomo più felice della terra, aveva imparato a voler bene, a stare con gli altri e a gioire delle grandi e delle piccole cose della vita. Grazie.